Ciao a tutti ragazzi e sono oggi qui per dirvi che abbiamo finalmente raggiunto il fatidico traguardo E voi dite, oh maddio Ces, ci hai mentito, dov'è la faccia? Facci vedere la faccia, che sono ste cose? XD dislike No, attenzione, perché questo è un vlog che ho caricato oggi 17 agosto per spiegarvi alcune cosette Allora prima di tutto voglio dirvi una cosa un po' particolare Il 15 sera, ovvero la sera di ferragosto, in mezzo a tantissime persone che ovviamente stavano in villa Continuavo ad aggiornare continuamente la pagina del mio canale youtube perché mancava esattamente un iscritto al grandissimo traguardo E continuavo ad aggiornare la pagina perché volevo vederla e gioire immediatamente E purtroppo nessuno si iscriveva Dopo un po' di tempo ho proprio abbandonato l'idea di vedere la cifra tonda Ho detto vabbè era anche normale il 15 sera spiegatemi chi è che sta su youtube Più tardi, esattamente prima di andare a prendere il kebab Non mi ricordo precisamente che ora era Sono andato a vedere per un'ultima volta quasi senza speranze E invece lì ho trovato cifra tonda Ho trovato la scritta lì, la fantastica cifra Su cui ho anche fatto lo screen ma ovviamente non ve lo farò vedere E mi è venuto lì un colpo al cuore incredibile Una gioia incredibile Sono rimasto troppo troppo contento Vedere quel numero è come vedervi tutti voi uguali a quel numero Che non dirò mai A differenza di come ho fatto nello scorso video Dove per sbaglio l'ho detto E ho dovuto mettere privato il video, aggiustarlo e ricaricarlo Ma lasciamo perdere Ve ne parlerò meglio nel video speciale dove uscirò la faccia E quindi sono rimasto contentissimo Voi non potete capire la soddisfazione Perché sarà pur un numero Però è come se quel numero si tramutasse in tutti voi In quel momento davanti a me E tutti voi, è come se vi tenessi tutti in testa Voi non potete capire come vi voglio bene Per me siete come una seconda famiglia E voi non potete nemmeno immaginare quanto YouTube mi abbia cambiato Io non posso assolutamente rivedermi nel me che non faceva video qualche tempo fa Invece adesso trovo che la mia vita si è cambiata in meglio Grazie a voi che mi supportate ogni giorno L'affetto che mi date ogni giorno sotto ogni video Io ne sono contentissimo E vedere quel numero è stato un po' come rivedere tutte le scene Tutti i commenti di ognuno di voi sotto ogni video E la cosa mi ha lasciato senza parole Il kebab vi assicuro che è stato ancora più buono dopo aver letto quel numero Però è anche vero che qui oggi non sono solo a parlare Perché altrimenti, che facciamo, non manteniamo le promesse Sono qui per dirvi che, come speciali Come speciale In realtà mi sono già spoilerato da solo come un coglione Ebbene ci saranno tre speciali per questo grande traguardo Tre speciali Il primo Sarà il primo Non ho assolutamente intenzione di dirvi nulla Il secondo Beh, sarà uno speciale Che sarà una sorta di continuazione Di un video particolare che ho caricato sul canale E che secondo me è stato uno dei video che ha fatto la storia del canale Se vi siete fatti un'idea potete anche scriverlo nei commenti Non è che vi ammazzo però Vedere le vostre teorie Come sa idonia Mi fa piacere Quindi No, quindi niente Perché voi dite Quindi Qual è lo speciale dove esci la faccia? Lo speciale dove uscirò la faccia Sarà il terzo E verrà caricato alla fine Quindi dovrete aspettare Ma aspetterete in buona compagnia Perché sia il primo Sia il secondo speciale Specialmente il secondo Sarà molto lavorato il secondo speciale E ci vorrà veramente tanto per farlo Tanto intendo Penso due, tre giorni di lavorazione Perché comunque è un video che richiede Un bel po' di lavoro dietro Il primo ne richiede un po' meno Anche il terzo ne richiede un po' di meno Però il secondo richiede veramente tanto Quindi Purtroppo sono qui anche per dirvi Che ovviamente oggi non uscirà Earth Gold Perché ovviamente ero anch'io In pausa Il 15 e il 16 Come vi ho già detto I video però sono già stati registrati Quindi devo solamente editarli Non so se prima caricherò qualche episodio Di Earth Gold E poi iniziamo con gli speciali Però in ogni caso Dovete un attimo capirmi Che gli speciali Non sono veloci da fare Non sono cosa semplice Ci vorrà comunque Un po' di tempo Per la lavorazione Quindi vi chiedo di avere un po' di pazienza Di non martoriarmi nei commenti Perché state tranquilli Che verranno caricati Tutti e tre gli speciali Io spero vi piacciono tutte e tre Nel terzo speciale Dove uscirò la faccia Vi dirò alcune cose Riguardo me Riguardo alcuni errori Che ho fatto sul canale Riguardo in generale La storia Di me Sul canale Sul canale Su youtube E poi vi farò anche un annuncio Che riguarderà un video futuro Dove mi farò vedere di nuovo E faremo un video particolare Quindi grazie mille a tutti Per aver visto questo video Vi ringrazio ancora Per questo grande traguardo Ma questo non è un cazzo di niente Questo video è solo un mini vlog I veri tre speciali Per ringraziarvi di questo traguardo Arriveranno ovviamente a breve Cercherò di essere il più veloce possibile In tutto Quindi vi ringrazio ancora Lasciate un bel mi piace a questo video Per farmi sentire che ci siete E che siete felici anche voi Per questo traguardo Iscrivetevi al canale Perché non ci dobbiamo fermare adesso Ma dobbiamo andare Oltre l'infinito E noi ci rivediamo Con Earthgold E probabilmente dopo Con gli speciali Ciao a tutti da CessnotX E euforico